Come ti chiami? Angelo Miccoli Qual è lo strumento che suoni, Angelo? La voce Ah, quindi sei un cantante? Sì, sono un frontman, un cantante, sì Cosa provi sul palco? Sono contento, grazie Come ti chiami? Roberto Pennetto Qual è il tuo ruolo nella band? Io sono la chitarra elettrica Vincenzo Aversa e suono le tastiere Ci sta la notte trucche d'assassino Loro sono le dissonanze Si sono esibiti a San Giorgio Ionico In occasione dell'Enjoy Fest 2022 E la loro è la prima band del Sud Italia Che nasce da un progetto che unisce La passione per la musica Alla passione per il lavoro Quello che Davide Paladino Terapista di riabilitazione psichiatrica Della ASL di Taranto Svolge con loro Lavorando in una cooperativa sociale Che gestiva, che gestisce Un centro di urno dell'ASL di Taranto Il centro di urno Maria Denghien Ho creato appunto questo progetto Che è partito dalla mia passione Per la musica, io sono la batteria Abbiamo individuato dei ragazzi All'interno del centro Che avessero delle potenzialità O già delle nozioni acquisite Nel suonare degli strumenti E abbiamo appunto creato questa band Cos'è la musica? È un linguaggio universale Ed è questo che noi vogliamo trasmettere Con le nostre canzoni Insieme alla, diciamo, alla band Tutti noi con la musica Possiamo andare a trasmettere Le nostre emozioni E nell'ambito di riabilitazione psichiatrica È una cosa fondamentale Per i ragazzi è qualcosa di bellissimo Dalle cover più famose Sino a diventare veri e propri cantautori La musica come strumento riabilitativo La musica come strumento riabilitazione psichiatrica E non è una cosa fondamentale